ciao amici sono alberto di awk studio e oggi voglio parlarvi di robots awards ma ciao ciao amici robot kingdom ciao amici dei robottoni salve brava gente amici del vecchio nerd ma soprattutto amiche del vecchio nerd no niente no scherzavo ciao sono alex di anime dal mondo ciao a tutti da max bus cari amici della tavola rotonda grazie e benvenuti a una nuova buccia ciao amici di robottoni e di nerd ciao a tutti gli amici di robot kingdom carissimo saluto a tutti noi amici di robot kingdom e salve a tutti gli amici del canale di art 82 ciao a tutti sono giovanni il creatore del canale toku robot channel ciao a tutti ragazzi io sono patrizia di rapporto da 79 volevo salutare i ragazzi di robot kingdom e i ragazzi della trattoria dei nerd è un ringraziamento nei confronti della trattoria dei nerds e di robot kingdom un ringraziamento speciale agli amici di robot kingdom perché hanno invitato anche un pazzo come me alla robot robot a wall street quindi grazie volevo ringraziare tantissimo il litico canale di robot kingdom insieme all'amico duo maxwell e i grandissimi della trattoria dei nerds per questa bellissima iniziativa al quale partecipo con grande piacere e con grande con grande grande interesse veramente non mi sarebbe mai capitato di partecipare a un progetto del genere volevo ringraziare robot forum e la trattoria dei nerds per averci invitato a partecipare ai robot rewards 2022 ringrazio per questa opportunità di partecipare a robot awards 2022 ringrazio robot kingdom duo maxwell e la tratteria dei nerds trattoria dei nerds con alessandro e adriano e ovviamente un caro saluto ad arturio max e ragazzi della trattoria dei nerds ai quali va anche il mio ringraziamento volevo solo ringraziare e dare un grande abbraccio alla trattoria dei nerds e a robot kingdoms per questa grandissima idea che hanno avuto per realizzare questo premio dei robot grazie mille ragazzi veramente un'esperienza direttissima veramente vi ringrazio tantissimo per avermi fatto partecipare anche a questo bellissimo questionario e grazie anche di averci mandato questo simpatico questionario di sole 200 pagine e volevo ricordarvi che partecipo anch'io all'operazione di questa improbabalia mi hanno chiesto di partecipare a un questionario tra l'altro molto complicato e dopo avermi mandato il questionario con una serie di domande amnetiche bellissimo ma anche complicato devo dire la verità è stato inviato da robot non ho veramente un bel po' il tempo fa e non l'ho aperto e sto a compilare sto coso qui voi non mi rendete conto 25 categorie ragazzi sono diventato matto e niente sto compilando il form bene 25 domande su questo questionario rispetto al nostro robot preferito ma va è tosta è tosta è una belica la mia abbiamo appena tenti compilare il questionario puntissimo non vi nascondo che è stato un po' difficile rispondere alle 25 domande del questionario non ho ancora fatto e alcuni non ho risposto proprio usate ve lo dico sinceramente tra il miglior pilota, il migliore arma e altre cose io non vedo che la serie di robot italiani penso da 30 anni il miglior doppiaggio italiano lo saprei neanche quello che ti scrivo eh indicare quadro A, B, C il miglior disegno, sono migliori riportare la frase ma attenzione a non ripetere la serie io ne penso ai e non lo so top di gamma, le è piaciuto? si indicare nome serie eh non vorrei dirlo comunque da regolamento non potrei scegliere le serie io il questionario è stato veramente impegnativo da compilare ho preso un giorno di ferie per completarlo parca parca è quasi più complicato di farlo in viso è un viso, io ci ho messo un sacco desideravo ringraziare Artù e company per avermi aiutato a vincere il mio timore devo dire che raga mi siete impegnati tanto e ci avete fatto impegnare tanto pure noi perché il questionario non era per niente facile tutto questo ha vinto la mia paura e il mio timore nella compilazione del 730 però sono belle domande non è facile ma è una bella pensata bravi bravi è stata una bella sfida anche questa mi sono divertito tantissimo ci ha divertito molto e soprattutto ci ha riportato veramente dettagli che con il tempo avevamo dimenticato mi sono però comunque divertito veramente un sacco a completarlo però un premio che si rispetti è giusto che abbia queste modalità quindi vi ringraziamo anche per questo grazie per l'evento che avete stato organizzando quindi grazie a tutti voi e niente ragazzi vi ringrazio quindi nuovamente per la grande opportunità di partecipare insieme anche agli altri canali ovviamente a questa fantastica iniziativa allora ancora un ringraziamento a Robot Kingdom Robot Kingdoms oggi veramente per le parole in inglese canzone di nuovo agli amici di Robot Kingdom ma si è il vecchio Nerd e gli altri ragazzi che hanno una cosa ciao ciao buon lavoro ci vediamo alla premiazione un abbraccio grande a tutti voi e complimenti per quello che state realizzando è la trattoria di Nerds grazie ancora e ci vediamo ci vediamo all'evento ringraziando Artù e aver veramente antecipato il devastare anni in ultime grazie saluti a tutti ciao grandi buona compilazione a tutti mi dite chi ha scritto le domande grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti